Abduzione Anca, con palla, svizzera. Curvate, il vostro busto, appoggiandolo sulla palla svizzera, e spostate su di essa, il peso del corpo. Una gamba, completamente distesa, con il piede leggermente, sollevato dal suolo. Senza spostare il peso del corpo, contraete i glutei, e sollevate la gamba, mantenendola, perfettamente distesa. Rimanete per una frazione di secondo, con la gamba in sospensione, di seguito, riportatela lentamente, in posizione di partenza. Grazie. Grazie.